Buonasera, sono Edoardo e sono il produttore e nonché presentatore di questo fantastico gruppo che sono gli Willys Wills. Questo gruppo è formato da questi due ragazzi, giovanissimi ma non per questo ricchi di talento. Lui, quello basso, è Lorenzo e l'altro, quello alto, è Francesco. Adesso ci presenteranno la loro nuova canzone in anteprima assoluta, è il nuovo modo di espressione ed è stata creata apposta per questo incontro. Cerco un nuovo modo di espressione nella mia mente solo confusione. Grazie!